Ora che è stato confermato il fondo di ristoro, implementato da un miliardo, un miliardo e mezzo, consigliamo a tutti di chiedere alle proprie associazioni. Noi come associazione Zelino nel sito abbiamo la preadesione al fondo, perché chi ha tempo non aspetti tempo. Ora inizieranno a pagare chi ha fatto l'arbitrato finanziario, daranno un 30% in acconto, chi ha fatto la transazione del 15% l'anno scorso può avere accesso al fondo, questo è importantissimo. Quindi vi consigliamo a tutti di darvi da fare con le vostre associazioni, noi siamo sempre a vostra disposizione.